L'Ave Tomorui, una partita lunghissima, combattuta, è arrivata una vittoria e il primo posto nella pool in questo europeo. Senta una partita difficile, si sono partite un po' forse tese, perché sapevamo che questa era una partita importante, che decideva la prima posizione della pool e l'importante era uscirne vincenti. Dopodiché abbiamo una giocata libera, importante, dove possiamo recuperare le energie e poi pensare alla semifinale che abbiamo da giocare tra due giorni.